Gli ultimi quattro giocatori arrivati in casa Sicula Leonzio, proprio nei giorni e nelle ore finali di mercato. Il premium bomber di razza, 53 reti segnate nei pro per Luca Miracoli, 54 con quella realizzata domenica con la Cavese. Calcio di posizione, pronto, al centro il cross verso D'Angelo, sua conclusione poi da due passi, la rete della Sicula Leonzio. Sì, sicuramente per me è molto importante perché appunto dopo tanti mesi di assenza dai campi di gioco era un'incognita anche per me ritrovare le sensazioni del campo e capire come sarei stato in campo. E quindi ritrovare subito il gol ovviamente è un'iniezione di fiducia molto importante. Non è valso i tre punti, però la prestazione che abbiamo fatto deve essere di buon auspicio per il proseguimento del campionato. Secondo me ci basta trovare una vittoria per sbloccarci mentalmente e poter fare dei buoni risultati. Io arrivo con l'ambizione di fare un finale di stagione molto positivo perché dopo sei mesi che non ho giocato per via di un infortunio importante avevo bisogno di trovare una realtà dove potessi esprimermi al meglio con un mister che già conoscevo in una società organizzata e ambiziosa. E quindi arrivo con l'ambizione di fare un grande girone di ritorno mio personale che possa contribuire ad ottenere dei bei risultati per la squadra. Con miracoli negli ultimi giorni di mercato sono arrivati anche i due lituani Dubiskaz e Meghelaitis già impiegati con la Cavese e Alessandro Milesi nato in Peru da genitori italiani. Ero arrivato appena due giorni fa e quindi sono contento che il mister mi ha dato fiducia, che mi ha messo dentro il campo e adesso l'obiettivo è integrarsi più veloce in gruppo e darci una mano. Di portare in playoff questa squadra, di aiutare, di dare una mano e fare bene. Sono felice di questa opportunità in Sicilia, tanto porto le mie esperienze passate con me e spero di poter lasciare la mia marca. Grazie a tutti.